Ora, un buon collegio a tutti, grazie a essere il piatto, il piatto, il rossi, potrebbero iniziare quest'anno, che parte, non è stata fatta apposta per l'arbitro, anche quest'anno, l'anno scorso, l'avvento, il suffitto, guardiamo che si parlo, il piatto è un anno, il piatto è un nuovo, un nuovo, che riportiamo, è voluto, fortemente, la piatto è un piatto, non si è lasciato più, non si è lasciato, non si è lasciato, non si è lasciato, quindi, diciamo, partiamo quest'anno, sperando che ci possano dare le nostre tre, fortuna, per quello che è l'altro, il mio città è una pressione, soprattutto, perché l'ho detto anche l'arbitro, per noi, questa è una stagione, oppure speriamo, la squadra che abbiamo fatto, verrà una salvezza tra il nostro scuolo e salvare, che ci sono messi, ci salvevamo, veramente ha fatto un grossissimo risultato, perennuno, alla, non, quindi, non è partiamo da questo, in questa fase, non ci aspettiamo nient'altro, e, in caso male, se ne abbiamo una salvezza, diciamo, la rossa, e lo stesso, non ci fa tutto, stanno, abbastanza più piede, è abbastanza, non so, ci siamo con sei squadre, molto forti, quindi con tutte le quattro, che sono, da me, che sono meglio delle altre, che almeno si giocheranno le partite, quindi, ora, partiamo a questo risposto che non voglio dare a nessuno il terzino del mondo, sai perché cosa c'è, questo anno è così, partiamo a questa fase, abbiamo entrato a firmare, abbiamo fatto un contratto a firmare, forse di creare, pensare a, ci posso dare, ma non posso dare, avendo la forza uno dei quali campionati. Nel senso che questa società qui crea fortemente il concetto sale, la mano a poter avere questa salvezza, quindi io spero che la gente capisca che i passi non sono fatti, ho calma, ho passato una volta, ho calma, ho fatto pazzie per andare con il mercato, ho calma, ho fatto una squadra equilibrata tra anziani e i giovani, diciamo, proprio la gente e i due, e quindi creiamo le ore che si trova qua su un'ora, che chiaramente devo lavorare, insomma, primaverà tutti quanti, quindi, diciamo che da questa settimana se non sarà mai tutta la pizia, purtroppo, che siamo atteso del conto sono per chiamare, non ci permettono di trovare il nostro lavoro, che è tutto per far sì che possiamo arrivare in una forma, di trovare il nostro lavoro, diciamo, l'opera che è l'attività del 30 settembre, chiaramente l'attività del 30 settembre è l'opera più calcolato, 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 l'opera più calcolato dopo 13 anni, quindi, secondo me, la gente deve essere orgogliosa che noi siamo trovati il progetto, che si parla di basket, che si continuano a fare le basket, come le passi in te, senza nessun altro benzina, quindi questa è quella tutta stessa linea che lo dico proprio, con certezza. Spero che ci segnate tutti e ci dovete stare vicino come staffa, per alcuni punti che speriamo, ci siamo fatti, diciamo, fatti tutti, il momento che aveva tutti il 35% e il 3-4-7-4-100 posti, si stanno operando una grada di calcolato almeno al 50% almeno al 50%. Il mercolino è una organizzazione in FAT di 20 squadre che stanno conoscendo una politica che non è il 4-4-1 che fa box per 100%, ma un altro che non è stato scosentiero, perché il momento in cui la gente, come per esempio, è un'opera in tasse, non è mai strutturata su un altro, per commettere 100% nel solito e entrare a tozzetto con le cussi a partenza e poter dare una vita, una vita a partiglia, come per il momento in cui vieni, vieni, facendo. E' chiaro che poi ci attennava delle direzioni della comunità scelta, cerchiamo quello che ci dice. Però si mesero una battaglia per le scelta, che non è al 100% che come stiamo venendo in tutti gli sport, in calcio, in grazia, chiaramente, non è calcio in tutto il saluto dei grossi problemi o alle sociali. E' un'altra insomma, il giocatore, per fare spettacolo, per poter, insomma, far vivere a qualcuno delle giornate che possono fare nella società. E' un grosso vantaggio, direi che comunque un po' di vantaggio anche alle sociali. Quindi, siamo convinti, insomma, che, nell'altro strano, stavano venendoci a bambuare, possiamo provare a vivere il tazzo. E' un suo suo ruolo che contro le gara, la prima partita, avremmo un tazzo. Il tazzo terra dov'è? E' stato emozionato, in fevere se giocato in questo tazzo, cioè il 25 terreno, o fin a me, o con tre mora, c'era, dov'è? Un tazzo terra. Noi poi lo sogniamo, ma io sento sempre più un alzo che ci possano segnere tutti i risultati che hanno fatto, come facciamo vedere, facciamo vedere la vera maggiore che era di caldo, e comunque c'è tanta gente che era contenta e usata delle persone, noi siamo voluti poter ripostare con l'entusiasmo all'alto in, e fa sì che è nato lì, tosse, insieme a metterli in tassi, per poter mettare un alzo, se è giocato il senso. Bene, grazie anche alla presenza di oggi noi, come già Presidente, abbiamo iniziato l'anno scorso questa nuova era, diciamo, in modo che conciugnerà una parola che ha portato anche bene le persone di qua, nel senso che, oltre al forte sentimenti d'Italia, che rappresenta a far così che si rassume un po' di lavoro molto meno, molto santo, che arrivava un po' di vittima che non è strumentamente difficile, immaginare, disperato, in vero, di là, come quella della pandemia, quindi, più da ringraziare, chiaramente in corso, guardiamo un progetto che, quindi, tenna i sorsi che sostanzialmente, per la sirena, con i pasti che fanno veramente da tutti, quindi, a partire a me o da, in media famiglia con lo social, con il presidente Assi, l'Assi, il Presidente Assi, l'Assi, il Presidente Assi, l'Assi, l'Investi, insomma, le Alta, i Valiari, è importantissime, è andato a modo da andare, per me la Seda un po' di scegli importanti, più forte, in 13 anni, quindi, le azioni che avevano una nuova, vanno a tutto. e noi stiamo a partire qualcosa che il nostro spettacore che fa presente, stiamo lavorando, ha scombattuto, siamo con una serie di iniziative, per imparare nel caso nuovo, sono importantissime, sapete, per il Friar di Centro, che l'iniziativa ha, fortemente generale da tutti noi, volta a promuovere il trend, davano i pasti per l'interno della città di Harvard, e insieme là c'è anche dei riscontri importantissimi, già a partire insieme noi, quando magari andavamo all'indomani, del successo che ci ha portato, appunto, una massima di livello. E, chiaramente, la cosa che stiamo facendo, cercare di consolidare tutti gli aspetti societari, a partire dall'interno, che mi fa lavorare, che è il nostro mondo di per l'arquidino, per cui, potremmo cercare di accontentare, con il più impossibile, i tifosi che curano a Palazzetti, ricambi rende lo spettacolo dei basket, che non sono un po' a carattere, insomma, lo spettacolo, abbiamo già costruito, anche lo spettacolo in generale, abbiamo grandi progetti, grandi epizioni, e grandi scompadini. E, ma, se ci sono arrivato, innanzi a risponso di ciò, se ci sono usato, nonostante, e per il pandemia, ci ha avuto tantissime aziende, che, nonostante, tutto l'anno scorso, in un'estate vicino, per cui, in un'estate, lo speciale, o anche a voi. E, nella nostra giornata, noi, partiamo da qui, partiamo da, da un po' a partito, e, se andiamo, posso aspettare, un po' a partito, il Presidente diceva, veramente, 1.400, 1.500, ma, siamo ben sotto, quello che io, ci aspettiamo, non può arrivare al 50%, ma, per chi non meritare, la cittadinanza, per chi non è, pensare, che dopo 13 anni, metà le pazze, il tremando a vuoto, e ci mettiamo l'opportunità della squadra in una uova. alla squadra, la missione, chiaramente, la sabenza, è il più obiettivo, è quello che dobbiamo essere, prani, concentrati, perché, siamo, noi, abbiamo detto, che questa è una societaria, per la prima volta, c'entra questo obiettivo, e quindi, è naturale, che la sabenza sia un obiettivo primario, ci siamo qui per questo. chiaramente, l'obiettivo è sempre rimanere da uno, per anni, quindi, rafforzando quello che prende, poi basso, rafforzando quello che la forza della, è un giurale di questa ragazzina, e puntando, in tutta la giurabilia, qua è presente lì, particolarmente, ma è fondamentale, per far sì che questa, questa città, cresca, come un movimento giustizio, quindi, lo sforzo, del crescere, dei giocatori, di Napoli, fortemente, legati, alla città, che possano, che possano, in modo di esaltarsi, perché non hanno il campionato, nella prossima serie, e, quindi, insomma, io, consiglio, per questo, iniziamo un percorso, ciò che inizia, insomma, mi riconda, se sono imparati, per quanto possano, gli amici, ma, normalmente, ho avuto delle guanzate, di, io, posso definire, di, inizio, di, 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 che, di, 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 di servizio e di servizio. Sì, si posso negare un po' pergnostico dopo, che è strano solo, e non è possibile, e bene, non è possibile, se non è possibile, se non ci sia un po' pericolo, se non ci sia un po' pericolo, ma sono già un po' pergnosti, ma certo che avremmo essere naturalmente un passo potente, e si è già che mi troppo sono le cose, per poter andare con me, una cosa che si, e si è in un sito, con me, con le scuote, e mi tiene una cosa di sconsire, e non la piscina erica, di parte di l'esplorio, per quattro esame, ma che non c'era una storia che non c'era una storia che non c'era una storia di calmasse. E questo mi sembrava che ci stavano sotto l'uomo e gli anni, le blocaccia, gli anni, sono i piedi a una parte di tutti. E gli altri per noi, come si usa, non è un paio che per noi, ma che deve essere questa nuova esperienza. E la seconda cosa, ciò deve dire che non conto, diciamo, del progetto, però perché non è proprio pensato che non è un livello molto chiaro. Per cui non ci sono sicuro un problema, diciamo, senza farlo capire, né, 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 né. La comunitàzione che si tieneva, una condizione di lavoro, c'era qualche quattro mesi in tutte le ore, e con la dichiaria, e con la dichiaria, questo è stato sentato a casa, con la dichiaria, questo non è un problema, non è un problema. E non è un problema, non è un problema, è un problema con la dichiaria. Perché da lì era comunque la cosa come questa, non è un problema, non è un problema facile. Perché aveva alcuni soli, invece unuto, non con le nostre osso strumentale, percogliare i migliori a questa, come un problema molto chiaro, per determinare che uno che non si sta necessariamente, ma che sia molto chiaro e che uno che gli costa, ma che si può andare a un campo costitore, un'esperienza, un giocatore che fanno piena soli, un peggio più soli, che pagano solo il tempo e non solo da me che non vogliono dire che vanno bene con un po' smart e dicendo che non vogliono dire che sono bene, quindi lavoriamo in tutte le mani ma perché è un momento importante che ci si no sta per il suo proprometimento che in tutta l'idea che non è sicuramente, ma che si non stanno facendo. E' un po' 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 Desnoncio a queste nu ho capito cheessi fili da un po' 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 e un po' un po' un po' un po' selfdo Il nostro grande viaggio è un po' un po' un po' un po' un po' socialista di ant�� che è meglio di avuto, non è che siamo tutti uguali, però sempre la sua ambiziazione si è già avuta, ecco, nella differenza tra la squadra e quella, e quando si trova a dire che è quello che io metto alla squadra, perché a una fine la differenza non è che è possibile, proprio io non voglio riflessere, io non lo senti con i cantanti, il fatto di non volare mai la testa di che il posto sia sia possibile, mi sono dato un conto, soprattutto la parola chiave che credo che sia in questo caso, è quella che vive, è quella che non ha fatto, è quella che è stata una sconferenza che ha fatto, non non è nello da cosa, non è quello che ci si appare che, come un po' perci, è come un suo bologino, che viene già a un trago e non è una volta che non è sapevo. Però è credo che sia un pari del nostro lavoro, molto molto il tragetto, che non è una serie proprio, non è una serie, ma 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 non è una serie. e poi si accordeva un po' di potere da un senso, ma come deve, ma che partita di l'altro, ma che si tratta di un indire, ma che si tratta di un senso, ma che si tratta di un senso, ma che sono solo un po' di un senso, ma che non sono, ma che sono in confezione. la transizione. La transizione è che mi parecchia parte di un passo, si muro di un palombo, che ho cresciuto in una preparazione di un'altra città, ma io non ho sento in una sala che mi parecchia parte di un altro, che mi parecchia parte di un passo, che mi parecchia parte di un punto, un altro punto, sono solo solo che mi parecchia parte di un'altra città, che mi parecchia parte di un altro, che mi parecchia parte di un certo minore, perché sarebbe una preparazione di un'altra città... Que mi parecchia parte di un tempo, e che mi parecchia parte di un'altra città... E non ci sollevo fare unƯssere di un'altra città, ma quando ho hai م ort Kwok, che non sia un po' più importante che notano di più, dovete ben provare un'emergenza di neutralizzare ma non se non è più una piazza, a misi peraltro che non si sta bene, non si deve avere un po' più che cosa, non si deve avere un po' più semplice, non si deve avere un po' più semplice, però se non si deve avere un po' più, ma sono un po' più grande, se non importa più. quindi la consigliere essere di una ricassazione di squadra è che il investimento è importante per tutto il governo o tutti, come tutti voi e non è stato un processo di processo di più e di questo è un problema di qualità e poi se sono fati di sottotitura e poi se sono fati di sottotitura e poi si sono fati di sottotitura e poi si sono fati di sottotitura e poi non può essere che magari è striduitora ma per dire qualche cosa insieme e poi non bisogna essere fatti tra le parole di lavoro, che può essere come grazie a tutti, per l'inforza di essere che non sappiamo, ma che ci sono定issimi e di essere qui, e il genere di Parlamento, la nostra comunità, l'impresa di نoppi, in萊ogbo, c'è la comunità che non si stanno in Safra, ma non si stanno in questoore che non si stanno in questa attesa, E questa è la mia domanda che si siano con una domanda tenerla, per l'anno della scuola vi ho portato un po' di sfortuni sulla città dell'Inghilitatore perché qualcuno ha portato un po' a riscaldi di una attenzione per le fabbricazioni, un po' di scelta, un po' abbastanza in là per poterire il mercato e così siamo fondati a un'economia dell'elegia si stiamo adunati per la prima volta. Dopo quanti giorni e dopo non siamo fatti a cercare una partita e adesso non partiamo a sottolineare l'elegio in un sito d'attività e in un'istituzione che abbiamo passato perché la prima tra le buttò via e continuiamo a ripartire una tempista a muo. E questo metano bisogna sempre la santificazione, totalmente troppurandante. e poi ho dimostrato un carico come si, ma però quanti giorni sono voltato a sottolineare questa sottolinea per portare il testo e cercare di rimanere che non c'erano molto un tiro e poi ho provato a prendere la ragione dei giochi a costruire l'elegio e scondare per un colletro e poi quando mi è, mi sentivano la stessa identità di gestione a costruzione per fare questa sottolinea, la difesa sia stata chiaro che questa sottolinea di qualsiasi ha troppo molto bene l'attacco, intanto perché mi piace e chiama soprattutto dai suoi che sono diversi di mantenere quelle introdotte centrali con i quadri sempre di più grandi altri perché penso che abbiano una caratteristica, si esigenerà qualità del credito che potremmo fare. E il secondo punto che ho detto, questo è un sottolineo, questo è un sottolineo, questo è un sottolineo, questo è un sottolineo che avevamo un monte e si accattano all'interno di una sottolinea un gruppo che avevamo fatto. E siamo arrivati qua otto anni prima degli altri e che credo ma il corso di imparazione di gestione di tornare da me è già un sottolineo di privato dell'elegio e quando c'è qualche circosuppatore che sono, che è l'etapa di quell'interno di chi vuole fare che non ci vediamo, è un problema, abbiamo fatto tra che poi anche di Lösch e anche di county, le decennate che credo sia un sottolineo di che non mi sono passato per un po' di dare noi, se pegarà un po' di raggiungere la pacienza, invece è un filetico, la distrazione è tutta poco, soprattutto l'inferente qui non sono un querico che non riempio, non riempio, non riempio, la creazione è una difficile di scuola perché molto bravo stesso, un regalo di segnale, un regalo di segnale e poi un po' sempre di distribuireci. E' un giocato di potenzione per quanto non lo so sarà volato. E' un giocato di potenzione che si tratta di sicurezza di differenza. E se io mi sono portato in giocato con sua mano, a un gioco mortissimo, a un gioco di chiaro, 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 a un gioco di che si può vedere come ci sono bene e si va proprio a un gioco di critica. Quindi questo abbiamo ancora fatto sicuramente in lavoro e spero di essere di questa propriazione, anche in senso le già come sono in gioco e non sono tante, non è niente, 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 non è niente potenzione per ciò che ci si vuole. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.